Trend moda, gonna lunga bianca, vediamo come portarla Ciao sono Patrizia, questo è il mio canale Patò74 dove parlo di moda e insegno a disegnare il figurino perché sono stilista Nel video in cui parlavo delle tendenze moda per questa estate ti ho fatto vedere diverse tendenze che vengono molto dagli anni 2000 Molte di voi hanno detto che la cosa che gli piaceva di più era la gonna lunga, in particolar modo bianca Spero di farti cosa gradita facendoti un video proprio dove ti spiego a questo punto come portarla nel modo più facile possibile e alla moda Vogue ci dice che è una super tendenza, ce la fa vedere abbinata un po' boh chic, ce la fa vedere magari vicino al maggiolone giallo con le ballerine Allora primo outfit con un gilet con i laccetti, i laccetti sono una tendenza, laccetti al posto dei bottoni il primo outfit Porto, vedi che questo gilet arriva alla cintura della gonna poco più giù, la lunghezza è un po' più giù dell'ombelico Portare la gonna lunga bisogna portare sopra dei capi corti se no ti abbassa Altro outfit un piccolo maglioncino smanicato color crema con sopra il cardigan sulle spalle in stile old money Terzo outfit top a fascia con cinturina nera, borsa piccola nera e ballerina di quelle come si usano adesso trasparenti nera Quindi mi ha fatto il bianco e nero e ha messo un top a fascia segnando il punto vita Un altro esempio è questa t-shirt corta cropped fatta a scatolina quindi corta e larga abbinata con gli accessori rossi Può essere un'idea, con il bianco tu puoi mettere qualunque tipo di colore Ovvio che se mi abbini il colore della borsa al colore della scarpa e poi il resto me lo fai tutto bianco è meraviglioso Lì poi ti sceglierai, in questo caso c'è il rosso, scarpa rossa e borsa rossa Ma poteva essere anche borsa verde, scarpa verde e tutto bianco È come una tela il bianco Poi vediamo il secondo outfit, la tendenza del momento, l'abbinamento del bianco e del nero Ha questo top con tutte e due le spalle scoperte E poi il suo abbinamento con la borsa nera e l'infradito nera Se non vuoi mettere l'infradito col tacco che è una tendenza di quest'anno Puoi mettere anche una ciabattina tipo Hermès, volendo Che ha un cardigan, però attenzione, vedi come questo cardigan è corto Non è lunghissimo, è piccolino, è un cardigan piccolino Color crema, che è perfetto E sotto ci ha messo il décolleté O se vuoi anche la slim back Ti ho fatto un video dove ti spieghiamo come abbinare le slim back Vallo a vedere Per tantissimi outfit E ti parlavo anche di brand di scarpe e borse italiani L'ultimo outfit ha una camicia che va molto di moda quest'anno Ed è quella con i laccetti al posto dei bottoni Ti ho parlato di questa tendenza in questo video Vallo a vedere perché ti faccio vedere tanti capi che vanno di moda Poi tu sceglierai che cosa portare Soprattutto per l'estate si può anche usare un po' di più E questo è uno di quei capi che va di moda Questa camicia con i laccetti Però attenzione alla vestibilità Soprattutto se me la metti su una gonna lunga Non deve essere una camicia con i laccetti Come va di moda adesso Larghissima e lunga La devi prendere della tua misura Che non sia enorme Perché se no sulla gonna lunga Fa sacco su sacco Qui vediamo altri tre outfit Molto chic Il primo è old money Ha una camicia bianca Infilata nella gonna Con questa cintura vita alta La gonna ha questa cintura vita alta E poi i suoi sandali dorati Intrecciati E la borsa abbinata Il secondo è più minimalista Ha questa maglia in jersey Con quel suo scollo ampio E questa collana E la manica magari la puoi mettere anche tre quarti Tutta bianca Con il suo sandalo color nude E la borsa in paglia L'ultimo outfit è parigino Ragazzi è molto parigino Quell'outfit lì E ha una maglia a righe nera Con la gonna bianca Torniamo sempre al discorso del trend Dell'abbinamento del bianco e del nero La riga si può portare benissimo Non allarga se è fine E soprattutto se la maglia è portata corta Quella lì è una maglia Che non è cortissima Però che cosa ha fatto L'ha infilata nella gonna Poi l'ha tirata un po' su E l'ha un po' piegata Quindi l'ha rimborsata Per andare a coprire un po' la cintura Questo è un trucco Che ti ho detto Di come coprire la cintura Dei pantaloni in lino Quando hanno l'elastico In questo video Ed è un trucco che è piaciuto moltissimo Infatti è stato ripreso Anche in altri contenuti di altri canali Questo mi fa molto piacere ragazze Perché vuol dire che Influenzo le influencer Altri outfit Un outfit più boh Con il bustino La cintura in vita Molto boh questo outfit Poi il secondo è un po' parigino Perché ha questa casacchina Smanicata Tutta bottonata davanti Anche questa è corta È un po' fatta a scatolina Con la sua gonna bianca E il sandolo nude Con i listini fini 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 L'ultimo ha una canota in seta Che ricorda questi pigiami di seta Però questa è una canota da esterno Si vede Messa con la gonna lunga Può anche essere quello un trucco Di portare questa canottierina Che fa un po' intimo Però è in seta Con la spallina fine fine Sotto la gonna E ti fai il completo Curvy style Anche la curvy si può portare Una gonna lunga Sì ragazze Se la può portare E come? L'unica indicazione Per aiutare la curvy A portare la gonna lunga È che non sia troppo ampia Che non si vada a svasare troppo Ragazze Non deve essere tanto svasata Che ci sono tante pieghe Deve essere leggermente svasata Allora è portabile Perché se mi metti una gonna Molto lunga E molto ampia Su una curvy Non aiuta Ma le gonne lunghe Come vedi qui Leggermente ad A Vanno benissimo ragazze Te le faccio vedere Nell'abbinamento col top nero Con magari una maglia Con una spalla un po' scoperta Con il top all'americana Portabilissime ragazze Mettetevi queste gonne lunghe Bianche Basta che non siano Troppo larghe al fondo Qui vi faccio vedere Degli esempi anche Di gonne per le curvi In sangallo Il sangallo è una tendenza ragazze Ricordano molto Lo stile positano Di cui ti parlavo In questo video Mettetevi queste gonne Basta che non siano Troppo ampi al fondo Un altro trucco Di cui io ti ho già parlato In altri video È la regola dei due terci La regola dei due terci Soprattutto con la gonna lunga Ragazze Cosa vuol dire Vuol dire che il busto Quello che tu metti Nel pezzo sopra Deve essere visivamente Più corto del resto Perché se tu mi vai A fare un abbinamento Dove hai una maglia Molto lunga Ti abbassa la figura Per slanciare la figura Basta che tu metti Qualcosa di Tra virgolette Corto Che cosa vuol dire I due terci Quando tu ti guardi Allo specchio Come fai a capire Se stai applicando La famosa regola Dei due terci Il pezzo sopra Che tu porti Deve essere corto Appena a livello Dell'ombelico Può andare un po' Più giù Di due dita Dell'ombelico Quindi tu per capire Se stai facendo Un outfit Con la proporzione Dei due terci Guarda il fondo Della maglia Dove arriva O la cintura Della gonna Se arriva Più o meno Nella zona Dell'ombelico Allora stai facendo La regola Dei due terci Perché questo è il risultato Vedi Un conto è mettere Una maglia O una camicia Dentro della gonna O potrebbe essere Anche il pantalone Un conto è metterla fuori Vedi come ti spezza Metà la figura Quindi te la abbassa Per slanciare Ragazze Regola dei due terci E voi mi direte Sì io la regola Dei due terci La faccio Però 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 Vedi che il primo outfit Ha rispettato La regola dei due terci Il problema è Che c'è un'altra cosa Da tenere presente Non mettere Largo su largo Questa è una cosa Di cui ti ho parlato Proprio nel video Dove ti spiegavo Come portare i cardigan Non mi mettere Una roba larga Su un'altra roba larga Anche se questa cosa È corta E comunque tutta Drappeggiata Sembrano Se tu guardi Il primo outfit Sembrano due gonne Non una maglia Una gonna Vanno più sugli altri due Dove o è un po' Più asciuttina Aderente come il top nero Oppure come quella maglia In lino Quella specie di t-shirt Che però è in lino Mi va leggermente svasata Non è più larga delle spalle Non è tanto larga Allora ci sta Vediamo altri outfit Per le curvi Perché la curvi Si può mettere benissimo La gonna lunga bianca Ti ho spiegato i trucchi Per poterlo fare E vediamo anche qui Come una t-shirt Portata sopra la gonna Fuori è tutta un'altra cosa Un maglione Vedete la differenza Sembra un sacco Su un altro sacco Non si capisce più La forma della figura Anche se queste sono Ragazze magre Con questa roba portata così Sembrano dei portaabiti Conviene sempre andare Un po' A dare il segno Della figura Siamo donne E quindi abbiamo la fortuna Di avere un corpo Sinuoso Con delle forme Andare a mettere Queste cose Che vanno giù larghe Cancella tutte le forme Della donna E vi ho messo L'esempio di prima Dello stile parigino Con questa maglia Portata al punto vita E in queste due foto Si vede molto La differenza ragazze Tra mettere una camicia Over Larga Su una gonna larga O mettere una camicia Che comunque È della tua taglia Non over E portata nella gonna È meraviglioso Altro esempio Di gonna lunga Puoi metterla magari Con una camicia corta Annodata Magari bianco su bianco Con il sandaletto Fine Sottile Fine fine Oppure puoi mettere Una polo Corta In cotone Fatta in maglia Di cotone Con la ballerina nera Come secondo outfit È perfetta Che sia una ballerina O che sia una di quelle Mary Jane Come si usano adesso Fate retina C'è molto il bianco e nero Vediamo le cose Da cercare di evitare Poi come dico In tutti i miei video Ragazze Ognuna di voi Fa quello che vuole Nel senso che Se ti metti le ciabatte Sotto una gonna Io dormo lo stesso Però vogliamo parlare Di moda Di come vestirsi Nel miglior modo possibile Essere anche comode Perché bisogna anche Essere comode Sicuramente Al posto della ciabatta A questo punto Una scarpa in tela Che può essere La all star O la superga In un outfit Si deve vedere Tutto l'insieme In questo caso Quello scarpone lì Disturba Disturba perché Troppo scuro Nero Troppo È una scarpa invernale Sotto una gonna estiva Si nota tanto E per rimanere Sulle cose Che io cerco Di trasmettervi Poi ribadisco Ognuna di voi Fa quello che vuole Però i sandali così Sandalo nero Abbiamo due esempi Di sandali neri Però il primo sandalo È maschile È maschile È pesante È grosso Poi anche questa giacca Larga sopra Tanto Stando sempre Su un sandalo nero Fine Sottile Con i listini fini Tra l'altro sono di moda I sandali È senza scarpe Più delicate Che poi non è necessario Mettere sempre il tacco Ragazzi Perché i sandali bassi Tutti intrecciati O con solo dei listini Vanno benissimo E qui ti faccio vedere Gli esempi di scarpe Dalla ballerina dorata Alla scarpa Con i listini Super essenziale Argentata All'espadrillas Io ti parlo tanto Delle espadrillas Per l'estate Perché sono comodissime E veniamo A un altro tasto dolente Ragazzi Questo è un tasto dolente La scarpa Da ginnassica Sotto la gonna Io non ce la faccio Ve lo dico Ce la metto tutta Con tutto il cuore Ma non ce la faccio A vedere Un abbinamento del genere Come Femminile Bello Aggraziato Piacevole Chic Sono degli scarponi Il concetto è La proporzione La scarpa È più pesante A livello visivo A livello visivo È più pesante Della gonna Sbilanciano L'outfit Sono troppo Sono sproporzionate Rispetto Alla leggerezza Della gonna Che è svolazzante Leggerissimo Con questi bei scarponi Che possono essere Di moda Finché vuoi Però attenzione La moda Non è che le azzecca tutte Vediamo un esempio Diverso Però evitate Questi scarponi Cicciosi Cianchi Anche se sono bianchi Anche se sono di moda Sotto la gonna Proprio non aiutano E anche sotto gli abiti Perché l'idea è la stessa Sono proprio troppo Sproporzionati Per star comoda E avere una scarpa Da ginnastica In tela Fine Vedi la differenza Che c'è C'è tanta differenza Ragazze Tanta Ragazze Qui colpo di scena Ad aprile Ti avevo fatto un video Dove ti parlavo Delle scarpe di tendenza E ti parlavo anche Delle zeppe A suo tempo Non andavano più di moda Le zeppe in sughero Ed era un po' così Perché dicevo È diverso tempo Diverse stagioni Che non si usano più Le zeppe in sughero Ritornano le zeppe in sughero Belle e alte Vogue ci dice Di come siano Bo Bo chic Ti ho parlato Del bo chic In questo video E oltre a essere Bo chic Sono anche leggere Alte e leggere Per cui Tutte quelle di voi Che hanno archiviato La zeppa in sughero Tiratele di nuovo fuori Perché per fortuna Sono ritornate di moda E qui ti faccio vedere Proprio l'esempio Ti spiego Proprio la differenza Di lunghezza Il primo Ha una scarpa in tela bassa Poi ci sono due Sandali fatti Cianchi alti Con la zeppa E l'ultimo Ha una gonna Invece corta Vedi come Portare una zeppa Sotto una gonna lunga Si può Però la gonna deve essere Proprio lunga Deve arrivare alla caviglia E la scarpa Deve essere chiara Di modo che non si noti E questo per tutte le petite Come me Che le vogliono portare La zeppa Che sia inverno È estate Deve scomparire Sin salabim La zeppa Non si deve notare Deve sempre vestirti In un modo Che la zeppa Non si noti Se la vuoi portare Con la gonna lunga Deve essere molto lunga Deve essere alla caviglia E la zeppa Deve essere di colore chiaro Di modo che Si confonde visivamente Con l'outfit Perché ha una continuità Di colore E non spicca Vedi l'ultimo outfit Ok Ha la gonna in pizzo Mai per farti capire Nella lunghezza Quella gonna lì È corta Perché ha metà Polpaccio scoperto E mettendo una gonna Di quella misura lì Con una bella zeppa sotto Si vede tutta E quindi non sta bene Cercate di mettere Le zeppe Sotto delle gonne lunghe La regola Della zeppa È che la zeppa C'è Ma non si vede Deve scomparire Ragazze Allora voi mi chiederete Ma la gonna Che arriva al ginocchio Che scarpa Ci posso mettere La zeppa Sarebbe da evitare Ragazze Perché fa Quell'effetto lì Meglio meglio evitare E evitare E quindi gonna lunga Tutti i brand Ce l'hanno Tutte le fasce prezzo Bonprix Benetton Max & Co Le trovi dappertutto E cosa ci mettiamo sopra Per fare un riassunto Camicia corta Come vedi in questo esempio T-shirt Magari scollata rotonda Con una collana O degli orecchini Anche qui T-shirt Corta Intesa come lunghezza Top scollato All'americana Che è ritornato di moda Ci puoi mettere Una maglia a righe O una top a fascia Con sopra il gilet Che però il gilet Non deve essere lungo Come vedi nella foto Non è lunghissimo Oppure una casacca Però anche questa Corta Con fantasia Un po' Bo Magari con dei fiori Un po' romantica Con una base bianca Altri capi Da mettere sopra le gonne La camicia in seta Leggerissima Quasi trasparente In questo caso Ti faccio vedere Un esempio a righe Annodata Volendo Annodata se non è troppo lunga E adesso ti spiego Top con tutte e due Le spalle scoperte Come ti avevo fatto vedere Prima di qualunque colore Se vuoi fare contrasto Vuoi fare dei toni neutri Va benissimo In jersey Il top Un po' lungo Con lo spacchetto di lato Fatto a fascia Come si usa adesso Qui c'è l'esempio Tutti i tipi di canottierine Fatte in seta In jersey In tessuto Come pare a te Fatta a canottierina Che infilerai nella gonna O se è corta La porti fuori Questi tipi di maglie Crochet Con un effetto rete Un effetto pizzo Corte Con un po' di manichina Vanno benissimo Il gilet Magari anche in maglia Tutto abbottonato E anche una maglia Smanicata Magari a righe bianche e nere Abbiamo detto Che il bianco e nero È una tendenza Quando siamo al mare Come non parlare Del top in crochet Questo è crochet Che cos'è il crochet Ragazze Uncinetto È l'uncinetto La facciamo semplice L'uncinetto Questo è un completo Canotta e gonna In crochet Quindi Uncinetto Volendo Se hai un'amica Che lavora L'uncinetto Puoi farti fare Un top Io questo Ragazze Ve lo sono fatto fare Proprio a mano Da una ragazza Che era molto brava A lavorare L'uncinetto Mi sono fatta fare Il completo Volendo Puoi farti fare Anche un completo Però lo puoi portare Anche solo il top Vedi questo top qua Su una gonna lunga Va benissimo E poi vediamo Tutti i top romantici Con i fiorellini Base chiara Magari il top è color crema Beige Bianco Con tutti i fiorellini Magari dei bordi in pizzo In sangallo Può essere una casacca Un po' larga Però corta Vedi qui degli esempi Di tutti questi mondi romantici E poi tutti i body Ragazze Il body è ritornato di moda Lo puoi prendere in tinta unita Lo puoi prendere Drappeggiato Con delle rouge Come quello azzurro Lo puoi prendere fantasia Magari una fantasia maculata Po a fiori Perché tanto sotto È una gonna unita Bianca Ovviamente badate bene Alle trasparenze Quando mettete qualcosa di scuro Come un body Che si vedrà Se la gonna è tanto trasparente Detto questo Se una gonna bianca Foderata Non si vede Se il body è scuro Tutti i tipi di body È comodissimo È facilissimo Ragazze I body E qui ti voglio parlare Del cropped Cos'è il cropped? Google ce lo traduce Come ritagliato Cropped vuol dire tagliato Che sarebbe un po' più corto Ti ne ho parlato in questo video Ti ho detto Che la lunghezza Di questo cropped È al tuo ombelico Ho due dita Più giù del tuo ombelico Siamo nel mondo del cropped Che va tanto di moda adesso In genere Sono cose un po' larghe E corte Non troppo larghe Io qui ti faccio vedere Delle camicie La prima è una camicia cropped La seconda è una camicia Che arriva a filo del sedere L'ultima è molto lunga Ovviamente le camicie lunghe Quasi al ginocchio Vanno nel mondo Poetnico Con un pantalazzo Magari in lino Ti ho fatto un video Dove ti parlavo Come portare i pantaloni in lino Vallo a vedere Per le gonne Stiamo sicuramente Su delle camicie più corte La camicia cropped Quindi quella che ti ho detto Che arriva all'ombelico O quella che è al sedere Perché? Perché poi la infili nella gonna Ti faccio vedere Il discorso della vestibilità Un conto è una vestibilità normale Di una camicia La vestibilità over È la seconda Tanta Abbiamo visto quell'outfit Dell'esempio della camicia over Sulla gonna La camicia Se vuoi portare una gonna E una camicia Mettila che sia della tua taglia Ti mostro l'esempio degli outfit Che ti ho fatto vedere All'inizio del video Legandoli al discorso Del cropped Come misura Vedi che il cardigan È cropped Cioè è cortino Il gilet Quel top Siamo in questi mondi Di lunghezze Qui da portare sopra la gonna Oppure Infilata nella cintura Tanto la camicia Quanto gli esempi Che ti avevo fatto vedere Magari questo top nero In jersey Con le spalle scoperte Che l'hai infilato Oppure la maglia Però questa maglia È infilata nella cintura E poi tirata fuori Come ti avevo spiegato In ultimo L'esempio della camicia Annodata È quello che ti avevo fatto vedere Bianco su bianco Vedi che è una camicia corta Per cui il nodo Non è enorme Perché parlare del cropped Per questo motivo Se ti metti una canotta Un top a fascia O qualcosa con le spalle Molto scoperte E questo ti fa sentire In imbarazzo Sopra ci puoi mettere Una camicia cropped Perché la camicia? Perché un cotone leggero Ti copre Nei punti strategici Però non tiene tanto caldo Mi vai sulle camicie cropped Meglio ancora Quelle traforate O in sangallo Così sono ancora più fresche Stiamo sul cropped Anche per dei giubbottini Ma non sono proprio giubbotti È un cotone Un drill Oppure le giacche tipo Chanel Leggerissime Vedi che sono corte Anche quelle O il cardigan Come avevamo spiegato prima Oppure anche Una maglia traforata Con i fiocchetti davanti Il cropped È la soluzione migliore Per mettere qualcosa Sopra la gonna Se magari hai le spalle scoperte E ti mantiene La logica dei due terzi Di cui ti avevo parlato prima Ti ho dato un sacco di consigli In questo video Condividilo con le tue amiche Che anche loro potrebbero essere Curiose di sapere Come portare la gonna Lunga bianca Che è una tendenza È fresca Fa amare Fa vacanza Ce la possiamo godere Proprio soprattutto d'estate Mettila E portala Con tutti questi consigli Che ti ho dato Scegli tu Ti ho spiegato cosa mettere sopra Ti ho spiegato che scarpe I colori Quindi se ti è piaciuto questo video Fammelo sapere mettendo un like Vai a vedere la playlist Delle tendenze E vai a vedere la playlist degli outfit Perché trovi tante altre idee Noi ci vediamo tutte le settimane su youtube Seguimi anche su instagram Nel mio canale troverai dei video Dove insegno a disegnare il figurino Perché sono stilista Noi ci vediamo la prossima settimana Spero che questo video ti abbia tolto Tante curiosità Se hai tanti dubbi Divertiti A portare la gonna lunga bianca Perché d'estate È molto chic Ci vediamo la prossima settimana Ciao da Patrizia Fatto 74 Ciao 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 Grazie.